Lo sviluppo tecnologico per noi contempla al centro la persona, il servizio e l'etica soprattutto come punto centrale. Per noi è lo sviluppo dell'intera comunità e dell'intera collettività, a partire in questo caso dalla dirigenza, per arrivare a tutti i dipendenti voi boys, passando per voi partner, per arrivare al cliente finale. Quali sono le risorse? La prima risorsa per lo sviluppo tecnologico è la componente umana, perché determina il successo e l'efficienza di una tecnologia. Le relazioni umane sono fondamentali, però lo sviluppo deve sempre essere condiviso e creare profitto, utilità e benessere per tutta la collettività, altrimenti è inutile. Quali sono le competenze per lo sviluppo tecnologico o per raggiungerlo? Questa è la visione di voi boys. La capacità di ascolto, questa è la cosa fondamentale, la capacità di recepire le richieste di voi partner. Le competenze lo sapete benissimo, avete studiato con me sui banchi di scuola, chi da remoto, sfortunatamente per gli ultimi anni, chi nei primi anni direttamente in presenza e ho cercato di trasmettervi tutto quello che potevo dal punto di vista tecnica in questo senso. Il tutto è continuo, quindi non smetterete di frequentare i nostri banchi dalla VoIP Academy, ci saranno sorprese in futuro. Le competenze per noi è fondamentale che siano trasferite alla rete partner, affinché voi possiate utilizzarle al meglio con tutta la clientela. Ma l'importante è rispettare il nostro codice etico, condividere i nostri valori, che sono anche i vostri. Grazie.